a bella a tutti scuola pescini bimbo di questo nuovo video io sono se le facciate di tana shakseo di semo su quei due bastardi sul server è inutile che faccio le presentazioni del gioco perchè le avete già visto da qualche parte comunque faccio una breve c'è anche un rage game è un rage game aperto appunto da un canale youtube che già dal nome dovreste capirlo non c'è nada dire iniziamo e basta perchè so se la tocca è un rage game quindi tipo chitmaren in parte qui però non so altro quindi start game continuo non so perchè perchè non ci ho mai giocato ma ehm c'è tutto questo io non ci ho mai giocato vabbè allora v jump left quindi sinistra ok right destra vabbè ebbè ok ho già capitola tutto ciò che dice non lo devo non lo devo fare perchè se dice jump vi giuro che ho scritto su cv quindi se dice salta non lo faccio non lo faccio più change player vado vado paura oh sinergo vabbè ok perfetto con red vado vai si sinergo non lo faccio perchè faccio ok l'ho detto perchè l'ho continuato a farlo maio o sono critico no? o se o no se mi smette se mi sfaccia vabbè si preme su per sapare non ha spazio si preme Rage quint per andarsena dal gioco perchè mi... ... vabbé no ho già otto morti non ho fatto neanche un quarto un terzo del bello credo intanto lì sopra sono delle cacchette le cacchette di tirale di rosa con e matrix morì e il fin finì ok vai continui poi salto vai allora double jump perfetto qui non c'era niente qui c'era questo stronzetto saltiamo la dash ho paura di farlo però devo farlo ok i caschi di sky what? c'hanno oh uh matrix matrix mi fa una pippa double jump se vabbè vabbè dai proviamo no aspetta ok aspetta ma scusa eh ecco ecco lo sapevo perché sono andato giustamente è la via più semplice perché vabbè dai cominciamo ad andare avanti che è meglio ma no mi sono ascoltato mi sono ascoltato di che timano lì va bene continuiamo ah ragazzi c'è una musichetta di che mi fa in maniera nervosa quindi non l'ho messa che sono quelle vaccine le smile là sopra vabbè madonna mia perché devi saltare sopra ok perfetto diretti sono quelle montane che mi fa il nervosì ancora di più perché già guarda le ridono di due muri sempre diretti cambia cambia ok qui aspetta eh oh 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 perfetto double jump ah si è là uh proagine checkpoint avanti c'è di nuovo cadono gatti dal cielo cadono gatti dal cielo se ero un topo già mi sono ucciso what cosa what no aspetta no aspetta qua c'è dato stronzo andiamo adesso non ho spinto non ho spinto non ho spinto come oh no 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 report report basta report è un install ok 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 eh che davido qui dovrò fare il double jump e il da combo giuro che è saltato ho spento la v show pork ok va bene qui c'è catamaro di nuovo cadio gatti di merda perché mi stiamo andando da sopra allora da sotto non prima niente ciò un petare qui oh ok vieni oh 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 uiii per quale cosa fisica è possibile ciò no mi stavo a scuola di nuovo la quale fi bah fisica se lo vedessi la mia professoressa di fisica eh non solto non solto sto porco oh scusa ma dai su non salti oh vieni qui si si no gula te lo vado giù si vabbè volo me c'è una bomba atomica pure oltre cavalli gatti boh e la se va la fattoria di qualcuno sto gioco le montagne dietro che ridono google jackson ok ok yep va bene andiamo matrix e matrix morì l'ho detto che non dovevo andare laggiù madonna mi non devo fare niente di ciò che mi dicono basta 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 non mi prega niente salto e si va bene però dai 5 ore che ti fa una pippa sto gioco ma forza cioè allora matrix intanto allora salto cambio ma perchè ho deciso di fare un video così era tanto bello minecraft dico play madonna mi salto ci staremo solo sette ore qui si sette ore sette ore sette ore sette ore minchia ragazzi mo allora sto a 1200 punti wow è 35 morti 34 35 appunto io l'ho prevedo il futuro 35 morti in 394 secondi che non so quanti sono solo che 3600 sono un'ora quindi giuro ma cioè il cavallo che cazzo lì lasciate perdere cammina wow 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 ok grazie chi c'è asqueri l'avevo visto prima eh 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 ma eh ma buh saltiamo eh eh no no non esiste voglio ricominciare andate un checkpoint per favore un checkpoint vicino no la non vado ma faccio bene il cavallo con quel penarello un po' so strano vieni più avanti vieni più avanti vieni più avanti mmm bravo cavallino mi ha fatto spaventare quel coso allora salto reddits sinergo quindi vediamo un po' vado ok perfetto c'è dove il cavallo lì che mi segue con le ruote dai su su appena un po' e siete spacciati come fa quando si incazza resiguita dal game nananana cavallo dai su vieni segui la puzza di 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 nessuno su no allora vai su cammino ho scordato di skyri manca il giocatore di tutto manca il solo giocatore stai stavanti su mario siamo a posto cioè no niente poi vieni su cavallino vieni 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 un po' di più grandissimo cavallo mi stavo scordando di nuovo no non ti prego no cos'è il dogo no 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 già visti già visti lì sulla destra perfetto lì sulla destra non ci devo andare però manco lì sopra sono un crepo vieni 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 proprio così si va avanti si quantuno morta dal primo livello credo che ce ne sia solo uno spero no vabbè no ho sentito che ce ne sono tre però io cioè se ci sono altri livelli poi ci faccio il video su anche gli altri se volete ovviamente perché se non volete se non se non mi piace non faccio ovviamente perché se non mi piace non inutile farlo ma anche ma anche drogato matix è anche drogato mesonorotto no ragazzi e quindi portato fate tutto quello che volete ma uffa porco il lato ma a che mi scordo di skyrim lee perchè eh vabbè 2000 punti siccome sono 2000 schiaffi in faccia quelli ok allora calma andiamo piano viene cavallo viene cavallo viene cavallo viene cavallo perfetto piano uuu non ce l'ho ricordato uuu allora questo mi sembra parecchio strano però siccome vogliono farci credere il contrario che io ho l'invenzione di prendere quel punto interrogativo questo o questo qua solo che siccome ci vogliono far credere dipende di quello là io prendo questo vai mannaggia dobbiamo anche menzioni tutto da capo cioè dall'ultimo checkpoint va bene grandissimo che c'è il cavallo di non so cosa drogato con il penarello in un po' strano io che muoio con tutte le trappe che non mi ricordo mai cristofalo colomo che sta rivoltando nella tomba scusami ma ok perfetto allora calmissimi eh calmissimi come se non ci fosse un domani vai vai matriiis madonna mia uffiii io io avevo il ciclitto si andiamo a far a quinto dove entrarci oh mi sono ricordato la fine pum 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 ma ma entro in quest'altro oh e dai eh ok e visita da bimbo il pd lo dico prima magari io no salta salta pum 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 salta pum 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 wow siiii ci puoi ci puoi eh sì ci sposta tutto qua ma è boom giuro che ho saltato eh ve lo giuro guarda se me si sposta anche il prossimo quindi ecco non l'ho detto ma non l'ho fatto perché sono un se un seri spacciati matrix No, ti prego, ti prego, no Questi bug Questi bug Vai Con calma Allora Stiamo calmi, è un gioco No, è un rage game Quindi se ti incazza è peggio Non mi ha colpito Non mi ha colpito No, non mi ha colpito Madonna mia Eh sì, vabbè Va bene, sì Un giorno ce la faremo? Non credo Questo video verrà tipo 50 ore E 5 giorni Ok, c'è Scherzi di merda Oh, crepa Allora No Io va Qua per te Uh, una cacchetta Mia Cacchetta Prima questa Cacchetta Sì Cacchetta Puntelli Puntelli Cidero Ho preso una cacca Ho preso una cacca Preso una cacca E sono una porta Cos'è quello che c'è da sopra Cos'è? Una cosa che mi piace Di stick Di stick Ma perché c'è Non lo sa Non lo sa Non lo sa Dai Non lo sa Ok Di nuovo Il che vale di prima Ma ti pareva? Ma ti pareva? Dai Dai eh Dai eh Dai eh Dai eh Che ho fretta Che il video Oh, madri Allora Quella bandiera Non la tocca Perché C'è il sangue So qui No Vado da qua Yeah Me la devo Immaginare Matrix 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 Eh, vai Matrix Oh, Matrix What? What? Ma che cazzo? Eh, vabbè Stronzezzi così Eh, vabbè Ma prima non c'era Saltato Non c'era Qualcoso Oh, no Levatevi Lasciatemi passare Con il cavallo Che vi fa le cose Ciuzze Ma che non mi danno il copyright No Che cosa? Eh, che ancora sembra un cricket mano Vai passato Veloce Beh, via Via Date giù Oh No Cosa? Va bene No Volevo ucciderlo Eh, no È incredibile Io non ci vado più Allora L'altro Non lo aprivo Ho paura Forse Devo solo Disinstallare Il tuo gioco E Giocherà Ligo flage Che devo ancora fare La vittura Del giorno Quindi Mi ha preso E ha preso le sue Delle scarpe Perché sono morto Oh Non l'ha ucciso Il kit mare Però Eh sì Vabbè Ce la farà un giorno Il nostro E Non credo proprio Dai Mi ucciso il kit mare Lì No Ma Va bene Tu scendi giù con me E questo Fatemi Che bug Bug Vabbè Dai Qui fa Oh Che debito C'è poi No Eh sì Vabbè Appaiono le punte Che qua Sonbride Eh vabbè Allora Sò Sì Ah Ok Sì Ma Ma Che cosa Dova fare Ah Si va bene Però Madonna Mia Dai Batte Sto Sto giocando Con una Mano sola Perché Tanto Una mano serve Cos'è che mi sto Pizzando I capelli Ok Fammi Ci vuole pacienza Pacienza Ragazzi Pacienza Allora 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 Tu Tu Così è ora Oh Oh No C'è il cavallo Ma vieni 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 Cade giù Stranzetto No 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 Scusa Scusa Ti capisco Sto Non Scusa C'è una Cacchina Lì Da Lavelo Bene Basta Tu Levati Oh Eh Oh Fratello Ok Andiamo Lassù Pam 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 Inizierà Una Cacchina Sì Sì Vai Dai Yeah Passa Ok Thank you Dove che stava La cacchina Sì Vabbè Non mi ricordo Dove stava Dai Se mi fregano avanti I cacchini Mi servono Io sono più La faccio C'è la cacca Yeah Del batter Dai passa Che va a luce Di cacca No Vabbè Devo so Cosa Sì C'è No La cacchina No La cacchina Vabbè dai No No Eh No 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 Sei stronti Però What Ho vinto Ho Fitti Livello Sì Troppo Di sì Ma no Non si vede Niente Cosa è successo Se Quattro Che cosa No Oh Io non mi Sto C Cos'è Sto C Grazie C'è Gioco Muoio Mi Incazzi Fanno pure Ci Va bene Dai ragazzi Fatemi Chiudere Sto coso Che Hai detto no Fatemi Chiudere sto Gioco Perché Ah ecco Vedi che ci sono Gli altri livelli Vabbè ragazzi Gli altri livelli Li faccio In un altro video Se volete Ovviamente dovete Scriverlo sotto Se volete Perché se no Me lo faccio Perché Cacca No Cacca Tata Quindi Cosa dirvi Dai Sono morto Sono morto E non ho avuto niente Che bel gioco No Dai ragazzi Fate Già tardi A un prossimo video Beh ragazzi Chau 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 Chau